Investire in formazione manageriale oggi è un investimento per la crescita e per lo sviluppo. Un HR manager dovrebbe scegliere un programma di formazione Stabucconi perché siamo una scuola italiana ma internazionale allo stesso tempo. Stabucconi è la business school di un'università e i nostri corsi sono fatti da docenti molto molto vicini alle aziende quindi riescono a dare una visione non indirizzata a un'unica metodologia. Un HR manager deve venire a noi per tre motivi. Uno è una dimensione internazionale. Siamo in grado di portare in aula casi che vanno al di là dei confini nazionali italiani. Secondo elemento importante è la relazione che abbiamo con la comunità degli HR. Terzo elemento è la ricerca. Ho scelto di seguire un programma di formazione Stabucconi perché avevo bisogno di colmare un gap a livello di conoscenze e competenze. La mia azienda in questo momento è in una situazione di grandi opportunità e ho bisogno di strumenti immediati per seguire il cambiamento. I vantaggi che ho ricevuto nello scegliere Stabucconi sono innanzitutto il prestigio del nome. È un corpo docente capace di trasmettere delle competenze che sono immediatamente poi utilizzabili nell'ambito lavorativo. Costruiamo formazione che è rilevante ed è rilevante per più interlocutori. È rilevante per le aziende, per l'organizzazione, per il business ma è anche rilevante per le persone, per i dipendenti quindi per i singoli individui. Portiamo in aula sempre modelli attuali, modelli che sono collegati ad una pubblicazione e questo aiuta e facilita il meccanismo di apprendimento dei partecipanti.